il reverting con il trading channel, quindi parliamo ovviamente di analisi tecnica, come spesso facciamo, andando poi direttamente sui grafici, come sapete Swisscott LTV con sede a Londra, detenuta da Swisscott Group, che è quotato sull'istino di Zurigo. Abbiamo oltre un trilione di scambi all'anno, un capital ratio 27.5%, che è un indice di solidità notevole, praticamente più che doppio rispetto alla media delle banche europee. Questo è il mio faccione, sono sempre io. Le slide, sì, sono a disposizione, anche per rispondere alla domanda di Vittorio. Adesso vi do anche tutti i contatti, eccoli qua, per ottenere poi anche tutte le informazioni, nel caso vogliate le slide, i webinar, alcune, molte registrazioni dei nostri webinar, sono sul nostro canale YouTube, per trovarlo basta digitare Swisscott Italia su YouTube, oppure andare sul nostro sito Swisscott.it, e poi in basso a destra ci sono i canali social. La mail generica è infochioccio a Swisscott.it, oppure avete i contatti diretti dei miei colleghi, Michela, Elena, Matteo, oppure Luca, Alessandro. L'indirizzo di Londra è Boston House 63-64, se volete mandarci delle cartoline di Natale. 800-148-261, numero verde gratuito dall'Italia. Su Swisscott.it avete anche la chat operativa dalle 9 alle 19, dal lunedì al venerdì. L'avviso sui rischi è sempre importante da leggere, prendete sempre il vostro tempo, lo mostriamo sempre all'inizio e alla fine di ogni singola presentazione. Bisogna sempre conoscere i rischi annessi al trading, all'utilizzo della leva finanziaria. Se avete ulteriori dubbi e o perplessità, ovviamente contattateci. Anche noi dal nostro lato, quando apriamo un conto trading, abbiamo un dialogo con ogni persona che apre il conto trading e ci assicuriamo che tutti i rischi vengono conosciuti. Questo ovviamente è fondamentale per voi e anche onestamente per noi. Roberto dice, siete grandi, per questo siete in Pol. La composizione complessiva di portafoglio è una delle variabili più sottovalutate quando si fa trading. Questo è qualcosa che ho messo proprio nella descrizione del seminario di oggi, seminario online. Dopo infatti aver esaminato in precedenti webinars diverse strategie trend following e di breakout, in questa sessione, per completare proprio la composizione del portafoglio, ci andiamo a concentrare su strategie che prevedono il ritorno dei prezzi verso la media. Parlo troppo, vedete, a farai di tante strategie, poi la voce mi va via. Durante la trattazione verranno anche spiegati degli specifici indicatori che, come al solito, vengono offerti ai clienti di SwissCop. Infatti, addirittura, prima chi è che lo diceva, chi è che diceva prima, ha già scaricato tutta la cartella condivisa, Giuseppe, quindi lui ha già messo gli indicatori sul proprio grafico, perché proprio sono nella cartella condivisa. Chi è che mi dice, non c'è un nickname, però, forte di apprezzamento del dollaro è partito proprio ora, illuminaci. Questo è un bene perché io sono long su ricerca effero-dollaro, però adesso andiamo a commentare. Il Trading Channel è un canale che si basa sulla volatilità del strumento finanziario, è l'argomento principale di oggi, quindi nei prossimi 30 minuti andiamo proprio ad approfondire questo argomento, come si utilizza il Trading Channel prima, come potete ottenerlo, è sempre un indicatore personalizzato, ok, questo è fondamentale, quindi i nostri clienti lo hanno già nella cartella condivisa, se non avete il link della cartella condivisa potete chiederlo, come vi ho indicato prima, la mail, ok, se siete i nostri clienti, se non siete i nostri clienti potete comunque contattarci per chiedere informazioni, è normale che offremmo un percorso, scusate, un percorso formativo completamente gratuito, anche gli indicatori sono gratuiti, chiediamo ovviamente di avere un conto trading attivo, operativo con noi. Il Trading Channel, quindi per entrare proprio nel video della descrizione, è un canale che si basa sulla volatilità del strumento finanziario. Ora, è abbastanza lungo da spiegare, il programmatore dell'indicatore è stato il nostro Fabio Pacchioni, come al solito, che è un programmatore esterno a Swisscott, di cui mi avvalgo da diversi anni, per la creazione di diversi indicatori che utilizziamo per il percorso formativo, è un concetto poi molto semplice da capire graficamente, e quindi ora lo spiego a livello teorico, poi chi magari è anche bravo di voi a programmare e vuole più indicazioni, magari mi può anche contattare, stefano.gianti, che ho a c'è la sui risco.com, è proprio la mia mail. Comunque, ora vado a spiegare velocemente la parte teorica, poi andiamo direttamente sulla piattaforma e vi mostro l'indicatore. Partendo dalla linea centrale, viene sommata o sottratta la diversione standard, calcolata con il metodo dei minimi quadrati, quindi viene sottratta la deviazione, calcolata con il metodo dei minimi quadrati, moltiplicato per il fattore band deviation, per creare le due bande che creano il canale. Quindi avete già capito che ci sono i due canali. Che è una cosa molto semplice, molto comune, quando si parla di strategie mirror reverting. Ok, vedete, per favore, in questo momento ho John Bollinger, che mi chiama, perché stiamo parlando proprio di deviazioni standard, mirror reverting. Ora parte la battuta, è normale che le bande di Bollinger e la regressione lineare, le prime in particolari, sono i concetti più famosi nell'analisi tecnica per quanto riguarda la traduzione di strategie mirror reverting, quindi che prevedono il ritorno dei prezzi verso la media. Che fanno, sono strategie che fanno profitto quando c'è un ritracciamento in corso, non esiste magari un trend ben definito, il prezzo oscilla tra supporto e resistenza. Ok, quindi è ottimo averle alternandole nella composizione del portafoglio proprio con strategie che invece sfruttano la tendenza dei prezzi e di questo tipo di strategie ne abbiamo parlato per diversi mesi nel nostro percorso formativo, che sono ancora, tra l'altro, nel nostro canale YouTube. Ok, quindi l'indicatore evidenza anche l'eccesso di prezzo cambiando colore quando il prezzo esce dalle bande. Per ora prendete buono tutto quello che abbiamo detto e lo mettiamo direttamente sulla piattaforma. Wow! Volte mi dire anche Eurofranco Spizzero? No, Eurofranco Spizzero mi dice ancora lì. Eh no, ha rimbalzato un po'. Bene, bene, perfetto. Bene, bene, allora vedete che l'indicatore funziona. Per questo ho le due posizioni in onda, su Eurofranco Spizzero e Rodoni. Allora, prima di tutto andiamo a prendere l'indicatore. Come al solito, lo ripeto 3000 volte, l'indicatore non è nella MetaTrader. Io ce l'ho semplicemente perché la MetaTrader poi può essere integrata con indicatori che si possono programmare, si possono copiare in giro, eccetera, eccetera. In questo caso, lo sviluppatore è sempre il nostro carissimo Fabio Pacchioni. Nell'indicatore c'è il nome dell'indicatore, il nome di chi lo crea tendenzialmente, nello scrivere le informazioni che vuole. E poi noi mettiamo sempre anche l'avviso su rischi, il disclaimer, ok? È normale che ci sono sempre poi dei rischi quando si fa trading con qualsiasi strategia si utilizza. Come nostra firma, sempre con Fabio, abbiamo anche il pop-up. Quindi potete essere avvisati con il pop-up sulla piattaforma. Se lo attiviate, qua mettete True, ok? Verrete avvisati quando il prezzo va a toccare la banda se avete la piattaforma all'indicatore aperto. Oppure potete avere anche, se volete, la notifica sul cellulare. Non è che vi arrivi un SMS, ma dovete avere la notifica impostata. È giusto per farvi vedere. Lui avete la piattaforma in italiano, quindi c'è impostazioni, opzioni, notifiche, abilità notifiche e push. E qua si va a mettere il codice univoco MetaQuartz ID che avete nella vostra applicazione mobile o dell'iPad, ok? Quindi avete la MetaTrader 4 sull'applicazione sul vostro cellulare o tablet e nelle impostazioni dell'applicazione c'è questo codice univoco che dovete copiare lì dentro, ok? Quindi queste sono ormai i nostri marchi di fabbrica che mettiamo in un indicatore perché sono davvero molto utili avere. Anche voi me lo confermate, quindi anzi in qualche indicatore che avevamo fatto senza. Ma non c'è la notifica, per favore, raggiungila. Infatti, ora gli indicatori facciamo tutti così. Quindi qua avete le deviazioni standard e la lunghezza, l'indicatore va a contare le ultime 100 candele, ok? Valori standard che onestamente, a mio avviso, è superfluo cambiare anche perché lavorare con questo indicatore con valori molto bassi può essere deleterio piuttosto accorciare il tempo di osservazione invece che accorciare il numero di barre contate, ok? Poi qua per cose in più sono state messe anche il calcolo dell'applicazione delle formule se si calcola sulla barra in chiusura, sul prezzo attuale però lasciatele tranquillamente così quindi di fatto non dovete modificare nulla se volete modificare, potete modificare i colori potete attivare o disattivare le allarmi o le notifiche ok? Perfetto Allora, prima chi è che mi chiedeva che si è depreciato il dollaro al di là ora del di qualcosa, qualche notizia che può essere uscita per carità però domani poi c'è il grande punto adesso c'è Paolo che parla domani c'è le minus della Fed quindi è normale che di volatilità soprattutto domani ce ne sarà però guardate quello che mi interessa cioè è stato davvero molto gentile del dollaro fare questa cosa proprio all'inizio del nostro webinar perché va a rimarcare il fatto che molto probabilmente quando il prezzo raggiunge un eccesso quindi è facile capire che esce dalle bande tendenzialmente potrebbe ritracciare verso la propria media che è questa linea centrale ok? quindi questa è la logica di questa strategia che è molto semplice da capire i time frame da tenere sotto osservazione sono tendenzialmente quelli un po' più lunghi anche se ho già visto che funziona bene con diversi diversi time frame un po' il mio preferito sul mercato delle valute il 4 ore e i 30 minuti e l'orario quindi tenere questi time frame è sicuramente ottimo l'orario non è assolutamente male il 4 ore non è assolutamente male il 4 ore diciamo è stato un po' il cavallo di battaglia di questo indicatore nelle ultime settimane da quando lo utilizzo attenzione e poi ho finito di descrivervi l'indicatore è un indicatore repainting non so se tutti sanno quello che vuol dire o meno diciamo che è comunque un repainting buono chi conosce la regressione lineare sa benissimo che cosa vuol dire un repainting repainting vuol dire che questo coso qua le due bande tendono a muoversi nel tempo ok però è normale perché perché se io prendo in considerazione le ultime 100 candele ogni candela vuol dire che va a prendere in considerazione un dato in più e va a eliminare quello di 100 candele fa perché quella di una e se della serie dato che entra con la nuova ogni volta che sia quindi è per questo motivo che prima vi dicevo di non andare a lavorare su valori corti in questo parametro dovete almeno calcolare le 100 candele e onestamente lasciatelo così che va bene non c'è nessun motivo per cambiarlo ok né per allungarlo né per accorciarlo piuttosto lavorate su time frame diversi quello è sacrosanto e inviolabile è simile a una regressione polinomiale mi viene scritto in chat sapete che sono molto amante delle regressioni io ho proprio anche questo indicatore che si chiama poliregr dove ci sono delle regressioni lineari e polinomiali per questo si chiama poliregr perché è la prima lineare e poi va dal secondo all'ottavo grado ok lo vado a mettere sopra giusto per fartelo vedere vedi che di fatto è simile a me piace questo appunto indicatore che abbiamo poi denominato trading channel perché è un canale dei prezzi perché adesso arrivo ad omettere anche un altro della regressione però in questo caso lo metto lineare perché a mio avviso è una giusta via di mezzo quello che ho notato io sono le regressioni lineare che la regressione lineare è davvero troppo lineare bisogna smussarla un pochino la regressione polinomiali di secondo grado è già invece troppo smussata infatti vedete quelle sovrapposte questo indicatore che abbiamo chiamato trading channel è onestamente un po' una giusta via di mezzo quindi hai beccato in pieno proprio il concetto di regressione che tra l'altro anch'io all'inizio del webinar ho citato bande di bollinger in primis e regressione lineare che è meno famosa diciamo nel trading però è un concetto davvero molto interessante aggiungiamo un qualcosa in più è normale che ci può voler sempre un po' il supporto di qualcos'altro per dare un po' un supporto e poi abbiamo finito quindi giusto due cose giusto due cose la seconda è la prima diciamo che matematicamente è un po' meno ma poi concettualmente visivamente molto semplice la seconda di cui parliamo ora è un qualcosa di universalmente conosciuto nell'analisi tecnica che tutti pensano utilizzate o comunque conoscete sapete lo stocastico l'RSA il MACD il CCI sono un po' i classici i classici indicatori oscillatori che si utilizzano anche a conferma di segnali operativi sapete che sono ho un approccio abbastanza multi time frame nel trading nel senso che vado alla ricerca di conferme su un time frame superiore ecco non mi piace mischiare 20 indicatori mi piace usare uno un indicatore più un pattern di prezzo oppure due indicatori senza avere chissà quante conferme perché se inizio a usare 20 indicatori vuol dire che non fai mai un trade se speri che vanno tutti d'accordo in questo caso mettiamo in più sul nostro grafico come template operativo il classicissimo stocastico che tutti 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 conoscete comunque giusto per dirlo è stato creato negli anni 70 da george lane è indubbiamente uno dei più conosciuti utilizzati oscillatori in anasi tecnica di fatto sarebbe un oscillatore stocastico non un indicatore perché il suo valore oscilla tra 0 e 100 quindi per questo motivo si direbbe l'oscillatore la formula è per 100k che sarebbe lo stocastico uguale al 100 per la chiusura meno il minimo della serie che si va a considerare tendenzialmente lo stocastico si utilizza 14 periodi ok quindi quell'n è il numero di periodi quindi praticamente sarebbe la chiusura dell'ultimo dell'ultima barra meno il minimo a 14 periodi questo è un valore variabile il tutto diviso tra il massimo degli ultimi 14 periodi valore variabile e il minimo degli ultimi n periodi questa è giusto la formula per riportarla però poi in qualsiasi sito si può andare a ritrovare ok quindi solitamente si utilizzano i valori per lo stocastico 14 3 3 giusto per chiarire e per ridirlo nuovamente anche per scriverlo dato che poi le slide saranno disponibili è sempre meglio dare tutte le informazioni questi due indicatori che sono stati programmati con un programmatore esterno su Wiscot quindi un collaboratore esterno che è Fabio Pacchioni come al solito sono compatibili con i server su Wiscot Ltd per la piattaforma MetaTrader 4 quindi i nostri clienti che hanno già la cartella condivisa come è già stato fatto l'hanno già scaricato ok sono nella cartella trading channel ci sono entrambi diversamente è possibile chiederci ulteriori rinformazioni quindi se siete clienti e non avete la cartella condivisa chiedetecela se non siete clienti contattateci per eventualmente attivare un conto e ottenere stocastico quindi mettiamolo tranquillamente sul grafico lo stocastico 1433 calcolato con il metodo della media semplice sui prezzi di chiusura anche qua utile utilissimo questo è molto utile abbiamo messo la notifica quindi se avete bisogno semplicemente al di là di un approccio multi time frame di usare un normalissimo stocastico come sto facendo ora quindi vedete uno stocastico che si basa su time frame corrente una cosa normalissima con i parametri che se volete potete modificare perché poi so che ognuno ha i propri numeri preferiti e però volete essere solo avvisati quando c'è l'incrocio lo stocastico potete semplicemente utilizzare questo oscillatore ok quindi lo stocastico cosa fa è la linea blu la linea rossa invece è una media mobile stessa dello stocastico e nell'analisi tecnica solitamente cosa si fa quando lo stocastico è sopra area 80 si dice che il prezzo è in ipercomprato quindi probabilmente tenderà a ritracciare prima o poi verso il basso quando invece come in questo caso proprio per il nostro webinar lo stocastico da ipervenduto sotto area 20 ipervenduto come migliori arbitri internazionali ovviamente è una battuta è uno scherzo si passa in una situazione normale potenzialmente tendenzialmente è un segno di acquisto se accompagnato magari da un pattern reversal o come nel nostro caso anche dall'indicazione che siamo sulla parte bassa del nostro canale di prezzo quello che ho notato funzionare bene in questo caso è lavorare sempre con un approccio multi time frame quindi cosa posso fare posso dire guarda io nonostante sto guardando sto lavorando voglio vedere il trading channel la formazione grafica su un grafico a 4 ore quindi il mio time frame a 4 ore voglio invece vedere lo stocastico su il daily quindi su un time frame superiore e quindi basta che qua gli metto daily one day ok e lui vedete mi fa vedere lo stocastico ovviamente verrà rallentato con questo con questa logica chiaro? ditemi se è tutto chiaro datemi qualche informazione domenico dice se interessa qualcuno ah beh questo è interessante sì va bene nel caso tu avessi già facchiare mandamelo stefano.gianti che faccio la swisscode.com ma non sono così sicuro con quello che dici perché anch'io ho visto qualcosa ma non sono sicuro che quello che tu dici è corretto ero anche in contatto con l'autore di quell'expert adesso infatti non sto dirlo perché l'informazione comunque deve applicare potente e flessibile sì sì comunque mandami informazione stefano.gianti che ho c'è la swisscode.com e tutto qua per ora chiaro? ok quindi è normale che in questo caso il nostro occhio verrà colpito da quando ci sono questi eccessi di prezzo ok quindi vedete eccesso sul trading channel in questo caso magari coloriamolo un po' diversamente ok e abbiamo anche un eccesso il copia e incolla sulla metatrader non funziona quindi andiamo a ridisegnarlo vedete lo stocastico lo visualizza bene il trading channel lo visualizza bene in questo caso vedete il prezzo si è appoggiato esattamente sul trading channel e c'è stata una ripartenza ok caso migliore più creatante onestamente è stato anche il precedente ecco vittorio mi fa una domanda classica va bene su tutti i time frame la risposta è sì infatti quello che continuo sempre a ripetere è proprio questo nel senso piuttosto modificate time frame non andate a modificare quel valore 100 ok perché se se state su un valore 100 il fatto che questo indicatore sia repainting il pre-minciano sia repainting non è un problema se invece lavorate su valori bassissimi diventa un problema e di fatto l'indicatore diventa abbastanza inefficace ok quindi questa è la cosa più importante onestamente che dovete tenere in considerazione ok quindi evidenziamo anche questa ripartenza dallo stocastico vedete in quest'area che andava a corrispondere con la ripartenza del del trading channel per quanto riguarda la gestione del profitto questa è una cosa che dico sempre allora la gestione del profitto è una delle cose più complicate in questo caso diventa abbastanza semplice perché essendo una strategia di ritorno dei pressi verso la media il take profit tendenzialmente lo dovete mettere appena prima della sua media o regressione quindi qua ok appena prima di questa banda centrale tratteggiata non è sempre detto che la banda superiore sia equidistante rispetto alla banda inferiore perché nella sua concezione questo indicatore va a va a fare calcoli diversi a seconda della velocità che c'è stata sui livelli inferiori sui livelli superiori ok quindi vedrete delle situazioni se utilizzate questo indicatore dove magari vedete che le bande non sono più distanti come invece in questo caso lo sono magari c'è una distanza minima ma in alcuni casi di più ok non è una cosa è una cosa che si capisce subito quindi la gestione del profitto perché molto invece quando parlo di strategie di trend following dico sempre utilizzate il training eccetera eccetera in questo caso la legge finché la barca va lascia andare non funziona nelle strategie mirror rating perché più che quel profitto tendenzialmente si potrebbe non andire di più qualcuno potrebbe dire però a me sembra in effetti che questo indicatore sia un po' che il prezzo tenda a scillare da una parte all'altra effettivamente è vero non è sempre così ma è una tendenza che c'è quindi dare da un eccesso di per comprato ad un eccesso di per venduto è vero ed è verissimo quindi quello che si può fare magari è chiudere metà posizione e cercare di far correre la seconda anche se io onestamente preferisco uscirmene e poi se il prezzo va a formare un eccesso da altra parte sarò comunque contento perché venderò un prezzo privato domani ok quindi io quello che dico è tendenzialmente andarsene a casa quando il prezzo arriva alla metà del fiume alla metà del guado ok chiedo scusa ho caricato indicatore inserito una cartella lo vedo in fondo alla lista della mt4 ma non me lo carico ho sbagliato qualcosa grazie la risposta è non penso poi magari provo anche il volo a riaggiornare il file a fine webinar quindi magari ti chiedo solo aspetta proprio la fine del webinar e poi per il giorno immediatamente il file anche perché tra l'altro Fabio mi ha mandato un'ultimissima versione di questo indicatore proprio pochi minuti prima dell'inizio del webinar quindi tutte le persone che hanno già copiato nella propria metà 3 del 4 l'indicatore riguardano nel dropbox e rifacciano dove lo vadano a a solo a scrivere non mi veniva il termine tengo anche presente che chiudo con altri esempi tanto il concetto mi sembra sia molto chiaro non voglio far durare questo bovina troppo diciamo anche un po' la base negli appuntamenti che avremo ogni lunedì alle 18 da qua fine anno che saranno tre di fatto andiamo sempre a fare dato che facciamo analisi in tempo reale in tempo reale andiamo a vedere tutte le situazioni tecniche con questo indicatore quindi faccio durare poco la parte teorica di oggi e da lunedì ogni lunedì andiamo a vedere situazioni tecniche con questo indicatore su tutti gli strumenti finanziari vi devo però parlare proprio di time frame allora time frame possono andare bene tutti tra l'altro nel nel nella cartella condivisa ho messo anche già due due template il primo template di fatto è quello che abbiamo commentato adesso che si chiama trading channel che è composto da il trading channel a due normalissimo quindi senza mai modificare nulla e lo stocastico a un giorno in questo caso lavoriamo sul quattro ore ok poi ho un secondo template che ho chiamato trading channel short term che quindi si capisce già che è da utilizzare sui tempi più corti che è fatto dal trading channel più lo stocastico a quattro ore ok invece che daily in questo caso onestamente potete poi lavorare allora i più i più scalpisti diciamo perché poi alla fine so che c'è sempre diciamo un buon 30% che è trader aggressivissimo sicuramente deve andare a lavorare su cinque minuti con lo stocastico a 15% ok quindi magari posso anche a volte capita che dato che c'è una forma un po' matematica un po' pesantina da risolvere dovete magari raggiornare o zoomare sono cose classiche standard della metatrader ok e potete poi andare a vedere diverse situazioni tecniche è normale che il mio consiglio è attenersi diciamo un po' a quanto detto quindi lavorare sui time frame un po' più lunghi questo lo dico proprio spesso nel senso è importante nella strategia di Mereverti in quello che ho notato nel tempo è che lavorare sui time frame cortissimi quando parte un trend rischiate davvero di rimanere contro trend per un periodo prolungato di tempo sui time frame tendenzialmente più lunghi con questo parametro non succede quindi il miglior consiglio che vi posso dare è stare su queste due impostazioni quindi o stare su 4 ore lavorare con lo stocastico daily come accade con l'impostazione trading channel oppure come accade con l'impostazione un pochino più veloce lavorare sull'H1 con in automatico poi lo stocastico ok su 4 ore come tra l'altro avete già nella cartella condivisa se volete vederlo i migliori strumenti finanziari su quale lavorare ho alzato un po' la voce perché è una domanda che è appena arrivata da Paola ora che è ovviamente una domanda a cui bisogna sempre dare una risposta quindi sempre parlare di time frame migliori strumenti finanziari è chiaro Marco dice non lo trovo nella cartella condivisa c'è proprio una cartella che si chiama tradin channel sto leggendo un po' la chat scusa c'è Gianluca che fa un'osservazione davvero interessante Gianluca dice se non scusa ma le strategie mi reverting dovrebbero essere usate prevalentemente su mercati la terminatura mi reverting quindi prima dovremmo verificare le caratteristiche dello strumento attraverso per esempio il calcolo dell'esponente di Hars per capire se erodogero ancora tra il persistente o antipersistente ma questa è una domanda che in natura più tecnica si ricollega appunto con la pena ricevuta da Paula che parlava proprio di strumenti finanziari l'osservazione che appunto dice Gianluca è assolutamente importante quello che vi dico è che i cross valutari sono tendenzialmente anche un po' per un luogo comune che si dice nel forex però onestamente è vero sono più mi reverting in particolare davvero euro GBP è molto mi reverting euro CHF io ho aperto una posizione proprio sull'H1 ieri sera proprio perché mi reverting e proprio perché aveva lo stocastico basso e onestamente io quello che ho anche fatto infatti nella cartella condivita ho trovato anche questo indicatore ho parlato molto di medie mobili di Hull recentemente io giusto ci ho messo anche anche le medie mobili sopra vedete proprio suro franco swizzero c'è stato appena qua io ho messo un buy stop me l'ha preso stamattina ok quindi questo a proposito che il Gianluca mi fa un po' questo assist sui cicli è una cosa importante ma allora è un discorso davvero molto molto ampio nel senso che già questo indicatore va a evidenziare un po' alla ciclicità questo è un indicatore non è che evidenzia la ciclicità scusate evidenzia la normale fluttuazione del prezzo infatti questo canale diciamo che è un volatility channel è un canale di volatilità è un po' come le envelope un po' come le bande di bollinger le bande di bollinger mette media mobile più deviazioni standard ed è molto reattivo questo vi ho fatto vedere all'inizio è anche più lento di una media di una regressione è un giusto mix tra regressione lineare e regressione polinomiale di secondo grado ok è qualcosa che proprio di fatto va a misurare la normale volatilità del strumento finanziario e di conseguenza anche dato che c'è la media centrale visualizza anche gli eccessi la parte ciclica invece infatti Gianluca se tu sei uno specialista di Harst comunque scrive perché il discorso mi interessa abbiamo fatto anche un evento a Torino l'anno scorso dedicato ai cicli di Harst io mi sono limitato onestamente a utilizzare il composite momentum di Francesco Caruso di cui abbiamo parlato l'anno scorso o qualche mese fa poi sapete che ne parlo diverse volte in delle cose invece ultimamente ho messo questo stocastico multi time frame perché lo giudico davvero ottimo sui cicli ok infatti io il ragionamento che faccio è ogni eccesso mi rappresenta l'inizio e la fine di un ciclo ok quindi per infatti l'oscillatore stocastico di fatto è molto utilizzato magari anche indirettamente di fatto per studiare il ciclo lo studio di cicli è comunque una cosa abbastanza complessa accostando comunque il stocastico e i livelli indicati dal trading channel annostamente mi sto trovando molto bene ok tanto che è giusto anche per farti vedere un strumento finanziario sul mercato valutario che ovviamente non è assolutamente considerato come near reverting è lo yen in generale però io ti dico che su time frame come h1 h4 onestamente si può comunque sempre utilizzare nel senso che qua vedi benissimo ha fatto questo movimento dove è stato in eccesso e ora ha fatto il suo ritorno però d'altra parte ti dico che strumenti come i cross valutari quindi euro gbp aud nzd euro chf un po' tutti i cross valutari come appunto anche le corone euro sec per esempio ok sono euro di kk sono strumenti che tendenzialmente sono molto near reverting ok qua lo si può vedere molto molto bene ad esempio qua abbiamo l'oscillatore stocastico in intercomprato quindi si va a tendere a rendere qua c'è stato un attraversamento quasi completo ok qua ora siamo nella fase dove euro sec onestamente si può tendere a comprare ok vedete come lo stocastico con slittato di un time frame effettivamente sia più pulito più lineare meno nervoso e dia ottime indicazioni cicliche per questo a me piace l'approccio multi time frame perché di fatto è un po' come uno slittamento dell'oscillatore stesso ok vedo davvero tanti commenti in chat anche grande duolingo uso duolingo per il francese Gianluca dice ad esempio lo standard in poli 500 è mi reverting sì lo standard in poli 500 è mi reverting e io onestamente ho notato per l'Europa che l'euro stocks è più è molto più cioè il dax è conosciuto per essere abbastanza uno di tendenza dello stocks è più mi reverting del dax tendenzialmente ok tanti dicono cosa sta succedendo sta parlando Powell oggi ha iniziato l'audizione e domani alle 20 italiane ricordatevi che ci sono le minute della fed quindi davvero molto molto importante sul valutario tendenzialmente l'utilizzo del trading channel è migliore le valute sono tendenzialmente più mi reverting il bond può essere utilizzato anche tranquillamente ok ricordatevi che offriamo i cfd sul gilt sul bond e sul t bond statunitense ok è normale che state attenti anche il prezzo delle notizie quando si dice una strategia mi reverting non è il migliore dei modi per fare trading state magari lontano dalle notizie come appunto domani alle 20 questo è il t bond americano vedete che è molto molto mi reverting ok questo è un h1 il bond eccolo qua quando fa magari così ho zoomato che avete per il termine ripristinato perché la metapreser ci impiega un po' per pensare il bond vedete nonostante abbia un trend rialzista fa queste oscillazioni verso la media quindi toccando più volte tra l'inciana questi movimenti se corrispondono alle certe dello stocastico come 1 2 il terzo precedente 3 di fila anzi 4 di fila in questo caso 5 di fila possono sicuramente aiutare un'altra piccola indicazione poi chiudo perché poi da lunedì faremo solo pratica per ora iniziate a utilizzarlo ok quello che potete fare è andare a mettere un altro trading channel in questo caso 100 non toccatelo e mettete 4 ok 4 in questo caso cosa cambia che vi giocate diciamo un rientro in più nel senso che si va a fare il primo seguito quando c'è la prima ripartenza verso l'alto nel caso non dovesse andare bene si va a comprare nuovamente sulla quarta direzione standard e avere lo stop loss sulla sesta ok se si lavora così largo è normale che c'è una gestione del rischio molto tranquilla le performance saranno molto più piatte però il fatto che si vada sulla sesta delle versione standard dove metterete lo stop loss diciamo che vedete adesso rimette un altro trading channel è un fatto anche abbastanza raro quindi si lavorerà in maniera molto tranquilla con piccoli lotti sarà un modo di lavorare molto molto tranquillo ok fate comunque già inizialmente la vostra prima osservazione poi nella giornata di lunedì ci riconfronteremo immediatamente in maniera assolutamente estremamente operativa mandatemi il materiale che mi avete letto qualcuno di voi ha parlato di altri materiali ricordatevi che proprio il fatto che è un indicatore repenting però un repenting buono la versione lineare anche nel trading è conosciuta come un repenting buono tra virgolette non vi fa usare questo indicatore con valori più corti però onestamente non è importante nel senso se utilizzato questo indicatore con valori più corti è normale che poi diventa anche superfluo sarebbe troppo troppo vicino ai prezzi e onestamente non dà segnali corretti quindi già le impostazioni standard che abbiamo appunto lasciato vanno bene il filtro stocastico è importante perché lo stocastico che vi dà il timing ok lo stocastico vi dà il timing d'ingresso quindi quando lo stocastico riparte dall'iper venduto torna in una situazione normale allora lì si va a riprendere il ritracciamento verso la sua media quando invece si esce dall'iper comprato e quindi prezzo in prossimità o meglio superiore al trading channel si cerca tramite un pattern uno short con poi un take profit che sia la sua media ok perfetto ottimo io vi ringrazio per l'attenzione a questo punto l'appuntamento di lunedì diventa importante al momento non c'è ancora sul sito ma ricordatevi di scrivere da domani ci dovrebbe essere info che ho c'è la scubisco punto t per tutte le informazioni e le approfondimenti del caso ora immediatamente a chiusura del webinar vado subito a rimettere l'ultimissima versione che mi ha mandato Fabio così ti ha già copiato l'indicatore se lo aggiorna immediatamente con l'ultimissima versione quindi lo andate di fatto a sovrascrivere l'appuntamento del lunedì diventa a questo punto ulteriormente più importante iscrivetevi e partecipate lunedì alle ore 18 andremo a vedere in tempo reale quello che accade sui vari mercati finanziari perché fare trading con Swiss con oltre 20 anni di esperienza nel trading online scelto da oltre 320 mila clienti nel mondo assistenza e supporto costante ricerche di mercato esclusive liquidità globale precisa questo è molto importante perché siamo molto precisi nell'esecuzione avendo l'accesso a 17 banche globali che ci danno liquidità oltre alla nostra liquidità conti segregati essendo reglamentati dalla financial condottatoria a Londra che è una delle più stringenti a livello globale inoltre siamo anche detenuti come SwissCode l'etilità da banca suizia la SwissCode Bank quotata sull'istino di Zurigo report di analisi tecnica quotidiano newsroom per avere invece l'analisi fondamentale questa è la nostra licenza 562170 per essere la financial condottatoria di nuovo i nostri contatti per aprire un conto trading a SwissCode.it potete procedere io vi ringrazio l'attenzione vi auguro una buona serata rimango a disposizione per domande stefano.gianti at SwissCode.com vi permette la mia mail io vi ringrazio ancora buona serata e buon predito grazie a tutti